Amire, stelle di luce, una moderna e delicata finitura decorativa per dare nuove idee di arredo alle pareti dei nostri ambienti. Amire è una finitura trasparente per interno, di facilissima applicazione, lavabile, resistente e consente di arricchire con temi puntini oro o d'argento un fondo precedentemente applicato. Si potrà dare un tono di magia ad una normale pittura lavabile, ornare un decoro multicolore o personalizzare stucchi, velature ed ogni altro genere di prodotto decorativo. Su fondi opachi risalterà in modo maggiore, i riflessi saranno più visibili in base all'angolo della luce, facendo così ottenere splendidi e seducenti effetti. Dopo aver mescolato accuratamente il prodotto, intingere abbondantemente un rullo di pelo medio e farlo girare su un fondo asciutto per togliere l'eccesso di prodotto. Iniziare a rullare sulla parete con movimenti verticali ed obliqui, avendo cura di distribuire uniformemente i puntini. Una magica e seduttiva finitura brillante per rendere più ricca ed unica ogni genere di pitturazione. Amire è fabbricato nel rispetto della normativa CE per le concentrazioni di sostanze volatili organiche.